Come giudica la decisione dell'amministrazione comunale di organizzare comunque una rassegna come Friuli Doc? Personalmente non farei niente, è sprecato fare queste robe perché non veniamo più fuori, io non ho voglia più di andare in giro così, non poterti baciare te o lui o gli altri. Basta, anche se non facciamo una manifestazione per un anno cosa c'è? Ripartire bisogna, l'importante è che ci siano i controlli, le misure rispettate e dobbiamo convivere comunque con questo Covid, dobbiamo imparare a farlo, l'insicurezza. Ritengo che debba essere organizzato con tutte le cautele del caso, visto il Covid ovviamente, perché potrebbe essere anche un rischio abbastanza elevato di contagio, speriamo di no. Mi ha sorpreso che sia stato organizzato perché, vista la situazione, pensavo che almeno per un anno si soprassedesse. Sì e no, potevano anche rimandare. Secondo me. Non è d'accordo? No, assolutamente, perché proibiscono tante cose e questo è un masso di gente e per me non va bene. Credo che comunque sia stata una scelta non negativa, anzi positiva, perché comunque la città ha bisogno di riprendersi in un modo o nell'altro e penso abbia anche che abbia preso delle misure cautelari necessarie per poter affrontare questo evento. Probabilmente sarebbe meglio senza, no? Credo che è più importante la scuola e altre cose che Friuli Doc. Per quanto mi riguarda, se lo fanno in modo adeguato va bene anche quest'anno, con le distanze. E pensa che sia possibile mantenere le distanze? Difficile, molto difficile, ma non dipende da loro, dipende da noi. Sì Assolutamente. Sì